Oggi siamo all'interno della parrocchia di Santa Caterina a Bitonto in compagnia di Don Gianni Giusto che è vicario del Vescovo in relazione a Bitonto e Palo. Il nuovo DPCM del governo autorizza i funerali con un massimo di 15 persone ma già in questi giorni in forma aina all'aperto si sono continuate a celebrare anche al cimitero ovviamente con i parenti più stretti. Vediamo cosa è cambiato, ce lo spiega Don Gianni. Su questo aspetto dei funerali credo che per il momento cambierà poco, siamo in attesa di indicazioni precise. Credo che questa indicazione dei funerali in 15 persone sia soprattutto legata a quelle zone dove finora ahimè non è stato neanche possibile celebrare i funerali con un minimo di liturgia perché erano così tante le situazioni di persone venute a mancare. Abbiamo visto in televisione le immagini delle bare accatastate in diversi luoghi e quindi è stato al limite possibile solo per il sacerdote andare a benedire, assolvere, aspergere le bare. Quindi d'ora in poi anche in quelle zone si potrà ritornare un po' più vicino alla normalità celebrando almeno il rito del congedo con la presenza di un po' di parenti. Da noi probabilmente in questa prima fase, ma ripeto siamo in attesa di indicazioni più precise, non cambierà molto rispetto alla questione dei funerali perché già da noi era possibile celebrare i funerali in forma ridotta e con la presenza di un certo numero di parenti nel piazzale del cimitero. Così abbiamo fatto a Bitonto in questi due mesi insomma. Per quanto riguarda invece i matrimoni, molti sono stati rimandati anche se i matrimoni in forma molto ristretta si possono ancora celebrare, quindi soltanto con gli sposi e i testimoni. E per le comunioni appunto mi stava dicendo prima che ci sarà un vero e proprio rinvio. Sì, i matrimoni chiaramente si cercherà di venire incontro all'esigenza, alle sensibilità delle coppie di sposi. Tecnicamente è possibile celebrare i matrimoni in una forma molto ridotta, intendo dire come presenza perché il rito si potrà celebrare per intero, già da ora è così con la presenza dei soli sposi e dei testimoni, del celebrante e di un minimo di animatori per la liturgia. Chiaramente molti sposi stanno valutando di rinviare e su questo chiaramente si andrà incontro, ripeto, alle sensibilità e alle necessità. Ci auguriamo poi che con la lenta e graduale ripresa si possa avvicinarci il più possibile alla normalità. Circa le prime comunioni, per provare a vivere tutto in maggiore serenità, già la Curia ha indicato a tutte le parrocchie della Diocesi di rinviare tutti i turni previsti per la primavera, insomma, in corso, e spostarli all'autunno prossimo, fra ottobre e novembre, ordinariamente. E' chiaro che anche su questo dovremo, step by step, come si dice, capire come si evolve la situazione perché tutto avvenga in maniera decorosa e tutelando la sicurezza di tutti. Gli anziani sicuramente in questo momento storico hanno sentito moltissimo perché erano la maggior parte delle persone che frequentavano solitamente la Chiesa, però siete stati comunque vicini a loro in una forma un pochino diversa, vi siete adattati alla forma online? Ma in realtà la forma online era già presente, ormai già da tempo, in parecchie circostanze si mandava in onda, in streaming, le varie celebrazioni o altre occasioni. Quindi sì, abbiamo dovuto affinare con le modalità, forse la vera novità è stato più il discorso di offrire anche spazi di formazione, di annuncio, di incontro fra i ragazzi. Ognuno di noi sta cercando di inventarsi le metodologie più opportune per venire incontro anche a quelle che sono le tendenze dei giovani, social preferiti dai più giovani. Però direi che anche, ecco, ho visto con piacere che diversi anziani hanno approfittato di questo tempo per aggiornarsi, di questa occasione purtroppo non positiva, però hanno fatto di necessità virtù aggiornandosi, iscrivendosi a Facebook, documentandosi e imparando ad usare questo. Quindi c'è stato un imparare reciproco in questo. Ho visto che c'è stata una buona possibilità di sentirsi comunità a distanza, ma credo anche di riscoprirsi chiesa domestica all'interno delle mura della propria casa. Quindi certamente la gente ha potuto cogliere anche il bello di pregare insieme. Non che sia una novità, tante volte nei percorsi pastorali anche precedenti, noi avevamo suggerito, dato sussidi per educarsi alla preghiera in famiglia. Ecco, questa è stata una possibilità per, diciamo, coltivare anche questa dimensione della vita della Chiesa più familiare, più domestica. Don Gianni, un'ultima domanda. Voi in questo periodo appunto siete stati accanto a tutti, soprattutto ai più poveri. La Chiesa non ha fatto mancare il suo supporto, soprattutto grazie alle tante donazioni che ci sono state e alla Caritas Diocesana. Sì, i servizi delle Caritas, cioè tutte le esperienze di vicinanza ai più bisognosi, sono praticamente per intero in piedi, subitonto anche, sappiamo bene, il lavoro della mensa della fondazione che ha continuato chiaramente con stili e modalità e cautele adeguate alla situazione. E anche l'assistenza delle famiglie più indigenti dei vari centri di ascolto Caritas normalmente è continuata anche qui, magari valutando la consegna dei pacchi viveri a domicilio piuttosto che far venire le persone a gruppetti. Certo, possono esserci state delle sbavature in alcuni ambiti, però abbiamo cercato e soprattutto quello che mi piace sottolineare è il fatto che come Caritas, insieme al Banco delle Opere di Carità, insieme a Unitalsi, a SAS, Protezione Civile, alla Croce Sanitaria, all'Anatroccolo e l'Ampi, ecco, sono tutte associazioni che insieme ed intesa con l'amministrazione comunale hanno cercato di servire, diversi volontari sono messi a disposizione sia per il servizio della spesa a domicilio per quelle persone, per quelle categorie particolarmente in difficoltà e sia per la consegna dei pacchi viveri alle famiglie indigenti. È un lavoro che sta continuando e si sta sempre più specializzando, venendo incontro a tutte le situazioni. Certo, qui l'esercizio che stiamo facendo, con l'aiuto di tutto, è quello di non dimenticare quelle situazioni un po' più nascoste, che per pudore non emergono e in questo dobbiamo tutti darci una mano, perché alle volte c'è il disabile solo, l'anziano abbandonato, tante situazioni marginali, se non vorrei fare un tutto un elenco, ma ce ne sono tante situazioni che rischiano di passare inosservate, mentre dall'altra parte c'è qualcuno che magari approfitta, come sempre, per avere più di quello che avrebbe necessità. Don Gianni, vuole lasciare a tutti quanti un messaggio di augurio e speranza? Io credo che il messaggio più bello di augurio e di speranza sia quello di non sentirci sconfitti. E chiaramente questa è un'esperienza che ci ha feriti tutti. Dobbiamo soprattutto pensare a coloro che stanno soffrendo di più per la perdita di parenti che sono morti o per quelli che ancora sono in situazioni di quarantena per aver contratto il virus, che sono a casa, diciamo così, confinati. Pensiamo all'ultimo focolaio che si è acceso a pochi chilometri da noi nella ditta siciliana, a cui siamo vicini, sia alla ditta che naturalmente alle famiglie che hanno vissuto questo colpo. Però non dobbiamo sentirci sconfitti grazie al fatto che se saremo, io credo, prudenti, saremo esemplari come siamo stati finora nel rispetto delle regole, nel rispetto reciproco gli uni degli altri, non banalizzando, non sottovalutando il problema, non ritenendo che la fase 2 sia la fine dell'emergenza, ma sia un necessario passo in avanti in cui però la responsabilità, il senso di responsabilità che deve cogliere tutti, non soltanto le istituzioni, le autorità civili e religiose, ma soprattutto i singoli cittadini, i singoli fedeli, se questo senso di responsabilità e di rispetto e di prudenza delle regole e dell'uno verso l'altro, lo valorizzeremo e certamente allora sì potremo dire di passare alla fase 3 e piano piano di aver vinto questo nemico, che resta un nemico subdolo soprattutto perché non è ancora del tutto conosciuto in tutti i suoi aspetti. Il Signore certamente ci aiuterà e come comunità presto torneremo a radunarci, con tempi graduali torneremo a guardarci negli occhi e a assaporare il gusto della fraternità, della vicinanza, del poterci incontrare da vicino. Auguri e lo dico anch'io, tutto andrà bene. Grazie a tutti.